L'amnesia anterograda è una patologia terribile, ma se concedete a questo vecchio e noioso professore di scienze un momento di speculazione filosofica, è una patologia che può ramentarci qualcosa di molto importante, tutto quello che abbiamo è il momento presente, se fossi in voi assaporerei a fondo il qui e ora, quel prezioso e insostituibile istante attuale, perché non si ripeterà mai più nel corso della storia, un tranquillo momento in un bel campus, i compagni seduti accanto a voi, il sole che filtra dalle finestre, assaporate questo più a lungo che potete, perché per il resto della settimana dovrete rompervi la testa per scrivere un saggio sul tempo e la memoria per lunedì mattina alle 8.30, niente proroghe scuse! Oh, professor Pierce! Andiamo, questa è la parte divertente! Grazie! Grazie! Grazie!